E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Ragazzi, ieri è uscita una patch di Fortnite di 13 GB ed è stata una patch assurda, perché hanno aggiunto all'interno del gioco delle cose veramente allucinanti. Intanto, prima di iniziare con il video ragazzi, vi ricordo di subito di lasciare un bel pollicione in su a questo video per supportarmi e vi ricordo anche di iscrivervi al canale. Se non mi seguite ancora su Twitch, trovate il link del mio canale Twitch dove faccio le live streaming tutti i giorni qui sotto in descrizione. Andiamo al dunque. Hanno aggiunto dei nuovi poteri e una nuova locazione molto molto interessante per quanto riguarda appunto i poteri di Iron Man, i poteri di Storm e i poteri anche di Black Panther che ancora però non ho trovato. Inoltre la nuova zona è molto molto bella, ci sa la nuova macchina di Iron Man che è una cosa assurda, proprio è velocissima, ma il problema principale è che i poteri che hanno aggiunto, specialmente quelli di Iron Man e di Thor, secondo me, ma dico secondo me, sono leggermente sbilanciati e lo andrete a vedere in questo video che ho fatto una bella duo insieme all'oxiderone, che conoscerete sicuramente tutti quanti, e abbiamo fatto un game da più di 20 kill. Quindi godetevi questo video e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, sia per il video che per quanto riguarda la patch. Una buona visione, ragazzi. Ma è un lama, ma sono i che mi droghi, ok mi droghi. Ma è un lama. Ma dove c***o? È un lama? Eh sì. Ah, è una vissi due allora, ce n'erano due. Come ce n'erano due? Eh sì. Quindi lei apre il lama e io vado a fettare nella città, grazie mille X-Tutor. No, compil'eventi. Sì, vado a rivederti qua in mo'. No, no, veramente, grazie. Solo protezzando il lama. Ma questo l'ha ignorato, easy. Mi sarebbe per fare la sfida questo lama, Marti. Morto, no. Morto. Prequisisco. Morto un'altra. Uuuuh. Io ho paura, X-Tutor. Sto arrivando? No, no, veramente ho paura, mi sto c***o sotto. Mi stanno sparacchiando? Non commento. Aaaaaah, c***o! Non ho munizioni. Non si preoccupi? Ma cosa non si preoccupi? Dove c***o è? Uno che mi stava inseguendo sparacchiando? Non commento. Mi inseguendo sparacchiando? Vai, vai. Comunque ne ho knockati tre e ho solo una kill, so per sclerare. Ah, ma lei è qua! Venga, 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 X-Tutor. Non faccio questi versi. Mi scusi, mi scusi. No, no, deve restare subito, non deve buildare, non deve buildare. Direi? Ok. Ansia. Per favore. Let's go, ragazzi, let's go. Ho un aerei con zero colpi. Questo potrebbe essere un problema. Ci dicono che comunque c'è... Oh. Ok, vado a prendere le armi. Ho messato con tutti i colpi? Grazie per l'informazione, molto interessante. Non l'ho preso con nulla, assolutamente. Non commento neanche... Mi sta mettendo l'ansia. Ma come? Sono zitta, non sto dicendo niente. Comunque dicono che c'era un altro là, ma potrebbe aver ragione. Sì, sì, ma infatti erano due. Ma io ruberei i monitor e andrei, però veda lei. Mi dia il pump, mi dia il pump. È mio. Dai, Martin, non devi fare il buco d'acqua, porca miseria! Gente! Ma sto, c***o, c***o, c***o di air. Non cado. Oh, quello è il potere di Iron Man. Eh, sì, ci sono i poteri. Porto l'altro. C'è, 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 c'è. Oh, Cristo. Nascato. Ok. Ok. Nascato. Aspetta, 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 aspetta. Non distruggiamo. Eh, no, è morto subito, è morto subito, c***o. Ok. Non potevo fare nulla. Ok, allora, c'è... Uh, guardi, cos'è? Non so, io ho questo. Guardi! Oh, c***o. Venga, 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 c'ho la carta del volto, eh. Procediamo. Eh! Non commento? Lascio la scudona. Ma Cristo, mi dia uno scudo! Eh, vada, vada, vada. Venga questo. Guardi qua che c'è dalla... Ci sono le ballerine, niente. Ok, vai, ma c'era gente qua sopra, Marty. Arrivo. Marty, ho un problema. No, con lei. No, morto uno. 46. Morto. Mamma mia ex-huter, vai, vai, vai. Ok, venga qui. Ti faccio lo scudino. Ah, non l'ho buttato. Andiamo a spalare a questi. Novanta blu. Cioè, proprio sono infiniti questi guanti. Morto uno. Morti due. Ma quanto sparano quei cosi? Siude. Non si fermano mai. Ok. Vuole sapere una cosa divertente? Prego. Il raggio che ho io, attraverso i muri. Io ho fatto 90 attraverso i muri. No, non ci credo. Io lo giuro. 90 attraverso i muri. A terra uno. Morto. Ho ucciso anche l'altro. I max-huter li stiamo spaccando. Sì, tutti. Ma c'è altra gente, eh. Ok. 20. Carico l'arma. Vado di raggio di Iron Man. 90 attraverso i muri. Mi devo curare, sono one shot. Morto. Morto. Ma max-huter li stiamo sfondando. Tutti abbiamo disegnato. Venga, due shotini per lei. Per favore. L'ha sparato qualcuno. Ah, da lì. 35. 35 di nuovo. 35 di nuovo. 24, 24. 35 di nuovo. 35 di nuovo. Trova il raggio di Iron Man. Dovrebbe morire. 90 blu, visto? Attraverso i muri, X-Huter. Non può attraversare i muri. Sì, 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 sì. L'ho fatto, io lo giuro. Ma non ha senso. Io lo giuro, gli ho fatto una manta attraverso il muro. Grazie Tommy, anche lei per i sei mesi, caro. 35 bianco. Arrivo, arrivo, arrivo. Non si prema, ho copi. No, no, se ne sono andati. Dove penso io andare. Guarda me. 53. 79 morto. 47. Martina. 35. 35 di nuovo. 46, 69. Morto un altro. Guarda questo. 35. Morto. Vado di raggio di Iron Man attraverso i muri. 2, 4, 1. Holy shit. Vai, vai. Tuo, tuo, tuo. Let's go. E vabbè. E vabbè. Il panico, computer. Ah no, un attimo ho cambiato leggermente il meta. Nel senso, non... Oh mio Dio. No, questo deve essere da canale, non me ne frega niente. Cioè, stiamo facendo del panico. Che sicuro. Abbiamo distrutto tutto a tutti. Che cosa è? In qualsiasi modo. Ma questo? È suo? No, è nuovo. È il potere di Thor. Thor, vediamo. Ah, devo selezionare dove? Vediamo. Seleziono, tipo qui. Cosa che fa? No, vabbè, non ci credo. Ok, quindi... Quindi se per esempio lei ha un box lì. Io da qua, io lo posso tirare. Scelgo io dove tirarlo. Non ha senso. No, mio Dio. Eh, c'è il cooldown, un attimo. Qua, gente, gente qua. Arriva. Targattali, targattali. Eh, c'è lo in cooldown. Allora, lo pingo. Non fanno male i guanti, eh. Quindi attenzione. Mi concorre con lo spadapente per fuori. Sì. Dove sei? Qui. Thor. È tutto uno. 90 blu. Pusho. Eh sì, sono qua con lei. 36, destra. Dove sono, dove sono? Uno da me. Morto. 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 Arriba gente sotto con la barca. Ok. 41, roto shield. Grazie. Torno. 59 in testa. Dovrebbe morire. Morto. Morto, morto. Attaverso il muro. No, questa cosa è ridicola. Ridicola. È ridicola. Ok, deve andare in safe. Eh, no, io tranquilla che ce l'ho spadapente. Oh mio Dio. Bravissima. È l'ultimo, Axi. È fuori safe, fuori safe. 3. 45. Mamma mia che game, siude. Let's go. Che game. No, vabbè ragazzi, che game. No, ma stiamo scherzando. Abbiamo distrutto tutti e tutto. Questa, boh. Eravamo con... Quante kill aveva lei? Eh, ne avrò fatte 6 fino alla fine. Io avevo 18, eravamo sopra le 20. Lol. Lilz. Lilz. Lel. Avevo un po'... Non commento, non commento, non commento, Axi. C'è da dire, c'è da dire che abbiamo fatto un ottimo start. Porca bro. A parte il fatto che...